Ragazzi Bene ragazzi vi ricordo che questa piscina ha assolutamente vietato tuffarsi hai vietato correre a bordo vasca, hai vietato entrare senza cuffia, hai vietato urlare, hai vietato ballare, hai vietato cantare hai vietato fare scherzi, hai vietato vietare e soprattutto hai vietato ascoltare musica! Ragazze Io so sexy, sexy, sexy I need you love, I need no hesitation Ma tu fai quel cazzo che vuoi No no no, don't stop that desire No 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 Ragazzi Ragazze Stigato Ragazzi Ragazze 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 Amore hai messo la crema? Certo mamma allora ho messo la protezione 30 sulle spalle, la 15 anti age sul viso, la 25 sull'addome, ho messo l'olio senza parabeni sulle cosce e la crema l'olio di horoba sui piedi Ragazzi 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 no non trovo più ciabatte e allora non vengo lì senza ciabatte che schifo ci camminano tutti qua dai muoviti vieni dai ci perdiamo che schifo che schifo ma cosa è bebe ragazzi ragazzi fuga 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 ragazzi oh raga raga cosa c'è il cosa cristiano ronaldo della juve oh mio dio ragazzi 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 avete appunto la notizia che notizia ma come onzo e valentino hanno litigato tentation island interessante vado a spararmi anch'io ma mi sa anch'io ragazzi ragazzi ciao ragazzi sei bandella sequestra ragazzi contro ragazzi in piscina se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e arriviamo a 200.000 like per un nuovo video con la nostra mitica ludovica pagari che ha partecipato con noi noi vi ringraziamo tantissimo ringraziamo ludovica che ha partecipato con noi ragazzi è uscita la challenge la nostra challenge sul mio canale quindi tutti nel link in descrizione mi raccomando e mi raccomando commentate con ci mandano i pantellasi ludovica tutti insieme esatto e noi vi ringraziamo tantissimo ah vi ricordiamo che da un mese è uscita la nostra canzone ma anche non l'ha trovata in descrizione e anche la canzone ludovica e tic tac ha trovato in descrizione ascoltate tutto sia su spotify che vi veniamo a vedere è uscita anche la canzone di mio zio franco anche la canzone lasagna sempre in descrizione e noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video e un saluto pantelliano a tutti e se tenete a questo punto di video commentate con Paganellas Paganellas per noi scherzo no st Grazie a tutti 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 Grazie a tutti